ciao buongiorno sono stefano perticaroli ideatore creatore di broker nautica manager academy bene ti faccio i complimenti perché sei atterrato in una pagina strepitosa straordinaria che ti consentirà di apprendere tutte quelle nozioni che ti consentiranno di diventare un professionista autorevole e capace e riconosciuto nel nostro settore nel nostro ambiente la nostra accademia ha un protocollo testatissimo che funziona perché è stato provato all'inizio su di me ma poi su tutti i miei ragazzi su tutti i miei corsisti e sono tutti riusciti arrivare al risultato in quanto piano piano anche chi non era che era extrasettore quindi non governava diciamo questo argomento in maniera professionale gli abbiamo praticamente insegnato passo passo tutto quello che deve fare e la nostra accademia veramente è unica perché non c'è quindi diciamo che al mondo siamo veramente pochissimi formatori che possono insegnarti questo ma la cosa importante è che il nostro protocollo veramente ha dei risultati incredibili strepitosi è un percorso formativo di sei mesi dove ovviamente potrai fare poi anche un upgrade per rimanere nel nostro team nella nostra famiglia anche in futuro o per sempre quello che dipende poi da te però è la cosa bellissima è che lavori in proprio perché comunque sarà il libro professionista ma non da solo perché comunque lavoreremo tutti quanti in team oggi il mondo è cambiato e come potrai capire è veramente molto importante avere una struttura dietro che che ti appoggia e che comunque ti possa in qualche modo sostenere in tutte quelle cose che magari soprattutto all'inizio non riesci a far da solo e a governare perché un team di professionisti che lavorano tutti quanti in stormo perché noi siamo come veramente come quei quegli uccelli migratori che fanno tantissimi chilometri insieme e lo fanno tutti alla stessa distanza perché noi siamo una famiglia e lo faremo tutti insieme e ci veramente ci trascineremo perché siamo un gruppo di pari che quindi in qualche modo arriveremo tutti quanti al risultato e prova a vedere se fa per te e comunque se vieni al nostro evento ti assicuro che ti faccio capire esattamente la grandissima opportunità che hai di fronte e se della tua vita vuoi farne veramente un capolavoro se penso nel posto giusto e credo che possa aiutarti come ho fatto con tanti ragazzi ti aspetto spero che sarà dei nostri e ti auguro comunque un bocca al lupo per tutta la tua vita ciao grazie